Musica Abbiamo creato questo corso perché le fiere sono un servizio complesso, sono molto efficaci per le aziende che partecipano, ma hanno bisogno di essere scoperte. In questo corso riveleremo i segreti per far sì che la fiera sia uno strumento efficace per le aziende e spiegheremo come pianificarla, quindi cosa si deve fare prima della fiera, racconteremo come si deve lavorare durante i giorni di manifestazione e come si deve dare seguito alla partecipazione, quindi come si fa un giusto follow up in modo da poter avere il massimo dei risultati di questo investimento e la possibilità di sviluppare nuovi contatti commerciali e nuovi mercati grazie alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche.